Bene, andiamo a ritrovare la nostra eccezione offerta solo per oggi, ripeto, solo per oggi. Ci saranno, abbiamo grandi firme, come potete vedere, grandissime firme, a prezzi stracciati. E ricordiamo che ai primi uno che telefoneranno possiamo, regaliamo questo coso, ok? E tra poco apparirà, grazie ai nostri tecnici, ai nostri informatici, alla nostra produzione, apparirà il numero di insomma di pressione, vi ricordo che solo per oggi c'è questa eccezionale offerta. Ecco il numero di insomma di pressione.